in una ciotola mettiamo 125 grammi di zucchero poniamo 125 grammi di buro un po' è diventato sponso aggiungiamo un po' di sale un po' di sale adesso mettiamo la scorza grattugiata di limone con lo zucchero e io lo conservo metto il coperchio e si conserva per molto tempo mescoliamo una volta amalgamato tutto prendiamo il setaccio mettiamo il levito per i dolci e la farina circa 300 grammi di farina poco alla volta mettiamo la farina setacciamo mescoliamo 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 Adesso l'ho bevuto alle manchina, un po' di farina e il pasto è quasi pronto. La consistenza è molto morbida, ho già messo tutta la farina, 300 grammi e ora, se c'è bisogno mettiamo un altro, vediamo che l'impasto è molto morbido, mettiamo un altro po' di farina, 10-20 grammi, non di più. Il pasto non deve essere troppo morbido, non è troppo morbido. Il pasto è pronto. Molto avvento, la consistenza è perfetta. Ora lo mettiamo nell'americola. E lo mettiamo a trigo riferimento per almeno 30 minuti, circa un'ora. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo a riscaldare 500 grammi di... ... 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 di... La crema è stessa in grado di 5 minuti. Ora riprendiamo l'impasto dal frigorifero dove è stato 30 minuti. Qui abbiamo la telia di 24, la base di 26 diametro sopra e su un foglio di pasta. Mettiamo il nostro impasto. Ora iniziamo a stendere. Ora ci mettiamo nella telia. Ora iniziamo. Ci mettiamo l'impasto. E qui abbiamo la carta. Tu mi sono sopposso. Quando basta, per i mani facciamo un'idea polizia. Adesso mettiamo la crema. E ora facciamo la decorazione. Mettiamo l'impasto rimasto sul forio. E adesso facciamo la nostra decorazione. E provo a decupare questo qua. Guardate, adesso con una forchetta spingiamo. E ora mettiamo le nostre forme decorate. La nostra crostata è pronta. La lasciamo raffreddare completamente. E poi la facciamo uscire dallo stampo. E poi la facciamo uscire dallo stampo.